Siamo in una delle piazze più importanti di Burgas, questa è la scuola Cillo e Metodio e qui ci sono altri... Vabbè, mia moglie mi dice fai vedere la neve, ecco adesso si vede sotto la lampada per cui la nevità fresca. I primi fiocchi che vediamo qui in Bulgaria oggi è il 29 novembre del 2016 e qui ci sono le casettine di legno che hanno messo per Natale c'erano anche dall'altra piazza e qui c'è una cattedrale non chiedetemi di chi è perché adesso non lo so però è bellissima e anche molto antica qui c'è una mamma Natale, saluti a tutti e al prossimo video ciao 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 ciao